La sclerosi multipla Sentiamo cosa ha detto il professore e il nostro collega. Un messaggio importante di AISM è di avere un mondo libero dalla sclerosi multipla. È solo un miraggio oppure una possibilità concreta? È una possibilità concreta, una prospettiva che oggi le persone sicuramente neodiagnosticate hanno di fronte grazie alla ricerca, ma è anche una prospettiva per chi la sclerosi multipla c'era già. E soprattutto c'è la possibilità, risolvendo un po' di problemi che oggi abbiamo e che l'agenda della sclerosi multipla dovermente tratteggia, nei prossimi cinque anni di cambiare la realtà della sclerosi multipla in Italia e dare a tutti la possibilità di vivere la propria vita oltre la sclerosi multipla. Quindi una prospettiva reale sulla quale e per la quale ci deve essere l'impegno di tutti, l'impegno di tutti quelli a partire dalle istituzioni che possono cambiare questa realtà e possono cambiarla ovviamente insieme alle persone con sclerosi multipla. Qual è il ruolo di AISM nell'informazione ai pazienti con sclerosi multipla? L'associazione italiana sclerosi multipla è l'associazione delle persone con sclerosi multipla e di chi è coinvolto nel mondo della sclerosi multipla, che è il primo interessato ad avere l'informazione completa, corretta ed esotiva per poter scegliere della propria vita. Quindi il ruolo che può svolgere un'associazione oggi in Italia è quello di avere e mettere a disposizione tutte queste informazioni attraverso gli strumenti che ci sono, quindi sicuramente il sito, essere sui social media, ma anche essere presente nelle riunioni, nei convegni, nei congressi, anche a fianco della persona con sclerosi multipla fino agli sportelli che nelle nostre sezioni danno l'informazione sui diritti, visto che siamo il principale interlocutore anche su questo aspetto, indirizzando le persone verso i servizi che ci sono sul territorio. Quindi un ruolo che l'associazione può e deve giocare, vuole giocare fino in fondo, perché l'associazione ritiene che una fonte di informazione autorevole sia fondamentale nel mondo di oggi. Ci può raccontare qualche progetto di tipo informativo di AISM? Io credo che il primo progetto informativo che in questi ultimi anni ci ha caratterizzato è stata la Carta dei diritti. Non perché non si sapesse quali potevano essere, almeno in teoria, i diritti della persona con sclerosi multipla, ma perché sancire in sette punti i diritti della persona con sclerosi multipla, farli firmare alle istituzioni, farli firmare ai cittadini, ha significato un primo passo verso un secondo momento, che è quello dell'agenda, cioè definire ufficialmente quali sono i problemi della sclerosi multipla in Italia, come possono essere risolti, chi li deve risolvere e il percorso che ci deve essere, è sicuramente un progetto informativo importante. Così come quest'anno abbiamo presentato il barometro della sclerosi multipla, cioè mettere dei numeri, mettere dei punti fermi, dire qual è la realtà e poi misurare ogni anno come faremo, come cambia questa realtà, chi ha fatto che cosa, è uno strumento informativo importante. Ovviamente il progetto di quest'anno del barometro è stato anche quello di dire quante persone con sclerosi multipla ci sono in Italia, dando un dato stimato e ovviamente tutti gli altri strumenti dell'associazione a partire dal sito sono strumenti importanti, dove le persone con sclerosi multipla si raccontano e raccontano della possibilità di vivere la propria vita fino in fondo, oltre alla sclerosi multipla.